Signore, mi è molto gradito darvi il benvenuto a questo incontro, come è stato detto, per annunciare i vincitori del Premio Imperiale 2022. Al riguardo, prego il Maestro Giulio Paolini, che è qui con noi, a venire al tavolo, che, come dirò fra breve, è vincitore del Premio Imperiale 2022 per la pittura. Prego, Maestro, si accomodi. Procedo quindi a annunciare i nomi dei primati nelle cinque categorie del Premio Imperiale e successivamente dirò a quale istituzione è stata attribuita la borsa di studio del Premio Imperiale per i giovani artisti. I premiati del 2022. Maestro Giulio Paolini per la pittura. È stato detto che pochi artisti oggi in attività hanno interrogato il mezzo e il significato dell'arte in modo così ampio e articolato come Giulio Paolini. Congratulazioni, Maestro. Premiato per la scultura è l'artista cinese Ai Weiwei. Per l'architettura il premio è stato attribuito ai giapponesi signora Kajuyo Sejima e il signor Rine Nishikazawa, che insieme guidano l'importante studio di architettura sana. Il premio per la musica è stato assegnato al pianista polacchio Christian Zimmermann. Nella categoria teatro-cinema, vincitore del Premio Imperiale, è il cineasta tedesco Wim Wenders. Concludo per segnalare che la borsa di studio del Premio Imperiale per i giovani artisti è stata assegnata alla tedesca Kronberg Academy Foundation per la musica. Io vorrei subito portare la vostra attenzione sul volume così elegante che ogni anno accompagna le nomine del Premio Imperiale e avrete certamente notato, come ho notato io, che la prima parola della prima pagina di questo volume è pulcrum, sappiamo, significa bellezza. Le altre due parole che seguono alla bellezza sono creazio e ispirazio. Insomma, meriterebbero di essere commentati e analizzati. Bellezza, creazione e ispirazione sono la vita di un artista. Concludo, ma avrei dovuto, voluto dirlo all'inizio, con un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione che mi prestate e anche ai promotori del Premio Imperiale. Grazie a tutti. Maestro, le nostre congratulazioni vanno a lei. Grazie. 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 Grazie.